Tutto su Jacopo Murano, l'avellino punta dritto all'attaccante del Perugia, accelerata importante dei lupi che vogliono assicurarsi la punta lucana, sbaragliando la concorrenza di Pescara, Modena e Sud Tirol. Per il calciatore dei grifoni è sceso direttamente in campo il padrone Angelo Antonio D'Agostino, che dopo un primo colloquio telefonico tra il DS Salvatore Di Somma e Marco Giannitti, sarebbe pronto ad un faccia a faccia direttamente con il numero uno dei biancorossi, Massimiliano Santo Padre. Il giocatore gradirebbe un eventuale approdo di Nirpina e l'avrebbe confermato nei giorni scorsi al DS Di Somma, anche attraverso il suo entourage. Ora sta all'imprenditore di Montefalcione a trovare gli argomenti giusti per convincere il Perugia. Secondo indiscrezioni emerse, l'avellino sarebbe pronto a tirare fuori per il cartellino dell'ex Trapani e Potenza 150.000 euro più un bonus di altri 100.000 in caso di promozione in cadetteria. Il Samurai, soprannome affibbiato all'attaccante Potentino diversi anni fa, ha giocato anche con Campobasso, Taranto, Montichiari, Monopoli, Grosseto e Re Canatese e vinto un altro campionato di Lega Pro con il Trapani. Senza dimenticare la Pro Doina con la spalla nel 2017 e il titolo di capocannoniere Indi con il Savona, dove mise a segno 26 reti. Sono ore cruciali in casa Avellino e chissà che l'attaccante non possa arrivare all'ombra del Partenio già prima della gara di domenica contro il Monopoli.